Ieri sera a Moncalvo è stato rapinato il bar tabaccheria La Tavernetta di Corso 25 aprile. Tre giovani con accento dell'estero europeo entrati nei locali hanno affrontato la titolare cercando di avvicinarsi alla cassa. La donna ha reagito cercando di allontanarli, però mentre due la spintonavano al punto da farla cadere per terra, il terzo ha raffato una manciata di gratta e vinci. I tre sono poi fuggiti di corsa raggiungendo un'auto scura partita a tutta velocità. Nella fuga i malviventi hanno anche perso alcune delle schede rubate. Una circostanza curiosa, nella stessa tabaccheria la scorsa estate un camionista rumeno di passaggio aveva vinto 450 mila euro proprio con un gratta e vinci. E nel pomeriggio di ieri invece ad Isola d'Asti un commerciante che si era assentato di casa per un paio di ore al ritorno ha trovato la cassaforte a muro di Velta. Dalla villetta alla periferia del paese, secondo la denuncia presentata ai carabinieri, sono spariti denaro e gioielli per un valore di circa 12 mila euro. E a Montiglio Monferrato invece un altro commerciante aveva denunciato ai carabinieri un furto nella sua abitazione con la scomparsa di gioielli di proprietà della moglie. Ieri a seguito delle indagini i carabinieri hanno denunciato il commerciante alla magistratura per simulazione di reato. L'uomo in procinto di separarsi dalla moglie si sarebbe impadronito dei gioielli nascondendoli nella casa di un'amica. Ed è già stata ribattezzata la corriera della scomodità, quella della tratta che va da boglietto di costiglione ad Asti. Ogni mattina, come dimostrano anche le immagini girate da un nostro operatore, i disagi per i pendolari sono notevoli. Il pullman della ditta geloso è stracolmo di persone ed ogni giorno è una sfida per trovare il posto a sedere. Alcuni studenti si arrangiano occupando in tre due posti a sedere, molti stanno scomodamente in piedi con i forti rischi legati alla sicurezza. La questione è già stata sollevata alcune settimane fa dalla vicepresidente del Consiglio regionale Mariangela Cotto attraverso un'interrogazione in provincia ed una in regione. Ma ieri la Cotto ha voluto provare di persona la tratta a boglietto Asti delle sette del mattino. Sentiamo. Tutta l'attenzione è concentrata in questi giorni sui treni e quindi ci si dimentica di dare un'occhiata al nostro trasporto esturbano. Io ho presentato una doppia interrogazione sia in provincia che in regione per chiedere a chi di competenza di verificare questi sovraffollamenti, chiedere alle autoline che se ci vogliono due pullman, mettere due pullman e non solo uno, proprio per rispetto dei nostri ragazzi che vanno a scuola e per la loro sicurezza. E a tutto questo, stando le testimonianze raccolte da alcuni studenti, è giusto aggiungere come la ditta che gestisce la linea tenderebbe a scoraggiare la concessione degli abbonamenti più economici, quelli trimestrali ed annuali, dando la possibilità ai pendolari di stipulare direttamente sul pullman solo gli abbonamenti mensili. Per il resto occorre recarsi presso la sede dell'autolinea, cioè a Canelli. Con questo da Asti è tutto, grazie per averci seguito. La Lina torna allo studio. Grazie a tutti.